Oh, salve ragazzi, qui del 38 con me fa, siamo su, come si chiama qui, Marvel's Avengers, siamo con tre giocatori di cui... Da quando Monica ha cofondato l'AIM, il dottor Banner ha sempre temuto le ricerche sulle radiazioni gamma che lei aveva compiuto mentre erano ancora colleghi. Loro, siamo in due con la stessa schiena, siamo due colori, siamo due colori. Il dottor Banner vorrebbe che lei si infiltrasse nel laboratorio e distruggesse tutte le ricerche. Ok, peccato che abbiamo la stessa schiena. Il dottor Banner ha registrato un messaggio per lei, Hulk. Ehi, bestione, se Monica è lì, fai il tuo dovere. Dai ascolto a Jarvis e Kamala, se ti dicono di contenerti. E, grazie, stai fermando quello che io non ho potuto. Come, a Kameroskin? Le radiazioni gamma provengono da una struttura sotterranea non lontana dalla vostra attuale posizione. È proprio al centro del territorio dell'AIM. Sì. Vi attende una resistenza significativa. Ah, poi è a livello 11 proprio. Madonna che triste. Aia. Quella è andata là. Hulk va lì. E no. Vabbè, andiamo. Vabbè, vediamo se possiamo fare qualcosa. Vediamo un po'. Molti stanno a giocare. Bello. Ok. C'è comunque un psicopatico, ragazzi. Aspetta. Eccoci qui. Dobbiamo eliminare quelle guardie. E Hulk, non fatelo entrare. Credo te lo sia immaginato. Credo te lo sia immaginato. Mo... Mo ci... No, chiamo. Guardate che voglio ripare. ok. 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 Dai, andata, andata. Dai, tocca a te. Forza, bestione. Dobbiamo entrare. Ok, ma gli altri non stanno a giocare. Vediamo un po' se... Siamo solo in due. Ah, boh. Lodo. Stregale. Credi che Abominio sia stato creato qui? Improbabile. Il patrimonio dell'AIM era molto ridotto quando è apparso per la prima volta Abominio. Tuttavia, è possibile che sia stato potenziato qui. Non è confortante. Il problema è che... Che Monica stia cercando di creare altri Hulk. Quella non sta manco giocando. È possibile. Ma le condizioni che hanno trasformato il dottor Banner sono difficili da replicare in un normale laboratorio. Ah, mo si è svegliata, lei, eh. Lodo. Ebbene, andiamo qui. Questo è il piano dei server del programma di ricerca gamma dell'AIM. Come si è? Ah, ben detto! Sono entrati, non fatele arrivare ai server. C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanzi. C'è un alleato della resistenza nei guai nelle vicinanzi. E ha bisogno d'aiuto. Quel terminale vi permetterà di accedere al laboratorio gamma lì avanti. Non mi ricordo dove era. brava, perfetto. No, dobbiamo andare a quell'altro. Che stava qui, stava. Guarda, un cacchio stava. Ok. Ne manca l'ultimo che si trova bene. Ha funzionato. Io uso i suoi poteri. Ora sei al sicuro. Non mi ricordo l'altro. Vabbè. Vabbè. Tavo ce l'ho di ricordare l'altro qual era. Vabbè, andiamo. Vabbè, non mi ricordo l'altro. È la madonna. I dati di ricerca sono salvati su diversi server per impedire eventuali perdite durante i blackout. Giusto, giusto. Dovrete distruggerli tutti per fermare gli esperimenti. Sicurezza, che succede? Sto ricevendo diversi allarmi. Ci penso io, dottoressa. A tutte le unità, fermateli. Sembra che la dottoressa Rappaccini sappia della vostra presenza. Ah, davvero, dimmi qualcosa che non so. Ti ho preso. No, Hulk sta, sta a avere poi brutto 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 brutto. Questa non si riazza. Lei, vedete, dobbiamo lavorare già. Monica è nell'edificio. Ok, sì. Oh, ancora vivo quello. Oh. Buon metterlo. Uno. C'è uno lì. Il minimo che puoi fare è guardarmi negli occhi mentre distruggi il mio lavoro. Perché non l'accontenti? L'ascensore è stato sbloccato. Potete procedere... Ma come si scatena? Guarda, devi stare calmo. Sembra che anche al bestione non piaccia molto Monica. Non ho molti dati su un'eventuale condivisione emotiva tra il dottor Banner e Hulk. Forse è come un mastino. Capisce chi sono i cattivi grazie al suo fiuto. Non sono sicuro che apprezzerebbe il paragone. LOL. E cazzo, hai un po' agitato il ragazzo. D'accordo. Cerchiamo Monica. Siete proprio dei credoloni, eh? Aspetta, cosa? Sparrate la porta e dipendete il laboratorio. Cercate un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Non, 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 io ho trovato a estraria. Non, 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 non. Ok, grande Ora abbiamo fatto una strage E' la madonna E' un'esagerazione Bella però, dai E' una bella partita Più o meno Ehi bestione Apprezzo il tuo aiuto in questa missione So che non sei un fan del codice verde Ma per riportare l'ordine nel mondo Avremo bisogno di te La distruzione della ricerca gamma di Monica Dovrebbe impedirle di creare un esercito Di abomini Ma in ogni caso ho chiesto a Jarvis Di tenere d'occhio eventuali altre missioni gamma Se dovesse creare altri laboratori Tu sarai lì per distruggerli Io vorrei proporre Una missione tranquillissima E' una missione che volevo sempre proporre Vediamo eh Finalmente faremo questa missione Che non l'ho mai fatta Eh 150-150 Pure lei l'ha scelto Brava Perché io l'unico di livello 150 E' questo Vediamo se troviamo altri giocatori Se troviamo gente di un livello Forte Bene Cioè che qua ci servono Livelli fortissimi Questo è l'unico livello Che non ho fatto E lo voglio fare Quindi Buono che magari Non abbiamo altri giocatori Però E' l'unico di missione Che non ho potuto mai fare E lo voglio fare Vediamo un po' Ma i personaggi sono randomici Siete diretti verso un'altra tempesta tachionica Restate concentrati sulla missione Noi vi controlliamo da qui Se faccio questa missione Io sono stra contento Perché è l'unica che manca A me E questa è una delle ultime che mi manca Se completo questo sono contento Per gli altri Sono a posto Distruggere quella stazione Colpirà l'AIM nel vivo Se perdono tutto quel DNA Inumano Metteremo i bastoni Tra le ruote Nei preziosi esperimenti di Monica Il capo della squadra Tio E' un inumano Dotato di teletrasporto E' sveglio ma impulsivo Vemo che possa avere condotti I suoi uomini in trappola Speriamo non sia così Vi segno la stazione Hyper Circuit Sull'interfaccia Sembra che stia bloccando Tutte le trasmissioni radio Ad alta frequenza Che spiegherebbe L'assenza di comunicazione La resistenza non usa L'avanzata tecnologia radio Degli Avengers Motivo in più Per distruggere quella stazione Si mette male Sarà divertente Un deposito di equipaggiamento Potrebbe essere interessante L'attrazione non è molto lontana Vedete se trovate i miei uomini Si 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 sto cercando di guadagnare un po' di punte Ok Ok Venetevi pronti La stazione sarà ben protetta Vedo se riesco a farli venire qua Ok Ok Ok. Adesso che non riesco, ecco, perfetto. Sì, sì, perché non sono abituato. Ma non è che... Avete visto quando sono forti? Ok. Questo è il mio prossimo trucco. Ok. Questo è il mio prossimo trucco. Maledizione! Non c'è traccia di Tio e degli altri. Distruggete la stazione. Questo dovrebbe riattivare le comunicazioni. Quindi prenderemo due piccioni con una fava. Vi ho indicato sull'interfaccia i trasformatori da distruggere. Siamo a me il pulmine! Aspetta! Ti ho preso! E per il mio prossimo trucco? No! 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 Non è facile! Oh! Ce l'ho fatta! Grazie! Distrugge Madonna, non è facile Allora, lo stai prendendo tu? Ok Con un po' di fortuna, una volta distrutta la stazione, potremo contattare Tio e la sua squadra Allora, non è facile Aspetta Dov'è l'altro? Allora, non è facile Madonna, non è facile ragazzi, devo capire dove c'è chi deve andare Aspetta, non si scherca Tio Aspetta, non si scherca Non si scherca di capire se c'è qualcosa qui che... Non ho capito dove devo andare No, è una tua caccia, aspetta La stazione Hyper Circuit è inutilizzabile Ripeto, siamo sotto attacco da parte di forze AIM Richiedo assistenza Tio, ti riceviamo, i rinforzi stanno arrivando, tenete duro Oh, grazie a Dio, ricevuto, faremo del nostro meglio La nostra teoria era corretta La stazione bloccava le trasmissioni della squadra Ho le loro coordinate Tio, che diavolo è successo? Abbiamo scoperto dei prigionieri inumani nel centro di ricerca AIM nei paraggi E deciso di liberarli prima che potessero trasferirli Purtroppo una pattuglia dell'AIM ci ha scoperti Vieni qui Forza Occhio Sorpresa Oh, ok Doc, hai mandato gli Avengers a salvarti Soltanto il meglio Io, la tua squadra può combattere Ma guardare ora Questo non ti piace Colpisco e scompaio Lunga vita alla resistenza Colpisco e scompaio Sì, certo Colpisco e scompaio Mamma mia Oh, è tostissima questa Facciamoli fuori Eh, ma a me non serviva questo comunque Lunga vita alla resistenza Lista, calmo Colpisco e scompaio Colpisco e scompaio Come ci si sente a combattere a combattere un fantasma E per il mio prossimo trucco Ci vediamo Il riscaldamento è finito Ok, ora posso combattere un poco Scusate, mi sono totalmente concentrato A prendere tutta quella roba Colpisco e scompaio 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 dove sei mia cara mia cara dove stai madonna madonna quello sta a parlare troppo ecco qui così iniziamo a rifarci non lo so ma tu adesso devi finire di parlare perché sta stressando colpisco e scompare dai che sono rimasti veramente quattro gatti si è bloccato da solo quindi apposto oh ma è stata tostissima ce l'abbiamo fatta che problema segno l'ingresso sull'interfaccia prendiamo la cosa andiamo per di qua lo sveglia tasto perché sto cercando di prendermi il più possibile l'ingresso è poco più avanti raggiungetelo tanto vale affrontarvi tutti insieme aspetta ti ho preso questo non si rialza mi serve più tempo non fate avvicinare i nemici madonna che casino aspetta ci penso io a questi la battaglia non è ancora finita canaglia si si non ti preoccupare devo portare il kit di pronto soccorso non è facile scusami da ferma sto cercando di perché lui vedi come si gioca perché uno o due pensano a quello eccolo qui madonna che cosa sono riuscito a fare madonna che casino che sono riuscito a fare cazzo devo trovare ho quasi finito si ho capito ho capito non resisterò a lungo ok forza gente siamo gli avengers aspetta dai ce la faremo ce la faremo ce la faremo madonna non è facile ragazzi perché si deve gestire praticamente il tempo almeno per qua qua all'esterno poi dopo è tutto più tranquillo però non si capisce nulla dai ragazzi l'ho quasi fatto dai ce la faremo si però pure io ho scelto anche quello ok bravo ottimo prendi quello che mi serve ola grande ecco fatto siamo dentro dobbiamo muoverci velocemente prima che l'AIM possa reagire l'AIM ha rinchiuso quattro inumani come animali dobbiamo liberarli concordo Avengers quando raggiungerete le celle vi spiegherò come fare qua ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatto con una cattiviera di sumo so che siete gli Avengers ma sono sbalordito che vi siate aperti la strada in una struttura l'AIM ad alta sicurezza quando sono in gioco vite innocenti non possiamo che combattere preparare soggetti inumani per il trasferimento si brigatevi non posso teletrasportarmi nelle celle deve essere l'interferenza dei campi di forza ci siamo quasi iddio non appena un prigioniero è libero teletrasportalo fuori la scuola per il rio che è un incontro faccio la scuola per il rio la scuola avrai vero che avrà Bravo Bellissimo Raga Questa è una bella partita Guarda quanto tempo ci impiegiamo E siamo solo in due Ora avete capito Perché lo chiedeva in due Perché Si deve fare molto gioco di squadra In un certo senso Si deve fare molto gioco di squadra Madonna quanta cacchia difesa questo No ok Non avevo mai perso in considerazione Mamma mia Oh che giocata Oh sta Questo è l'ultimo Io teletrasporterò fuori i prigionieri Non appena sono liberi Non voglio neanche pensare Cosa intendesse fare Monica Con queste persone Non è l'ultimo Che ho preso E per il mio prossimo trucco I generatori della cella sono accessibili È un po' scaduto Non mi prenderete Ora mi hai fatto arroggio Ha disattivato il campo di forza Io Entra nella cella Ottimo lavoro Avete esposto i generatori di quella cella Campo di forza È disattivato Io Tocca a te Eccellente Ora distruggete i generatori della cella È distrazione Mi servono dei rinforzi qui Non stavo di essere spazzati Grazie Ha funzionato Mamma mia Guardate come siamo concentrati Abbiamo perso Ok Ben fatto I generatori della cella sono vulnerabili Sono indebito Aspetta Grande raga Madonna cosa abbiamo fatto Quello era l'ultimo Oggi vi siete davvero superati a Vegers Inizio che abbiamo fatto Mamma questa era tostissima raga Era la più tosta da fare E la volevo fare Ci sta Dai abbiamo fatto una bella partita raga Posso staccarla qui Che so contentissimo Analizzeremo i dati Il prima possibile Bene Posso anche stopparla raga Almeno per il gameplay qui Qui dal 38 Al prossimo video Passo e chiudo Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.